L'integrazione sul palco. Il progetto di sperimentazione teatrale Forme, proposto da Comune di Feltre, Caritas Feltrina, Slow Machine, Cooperativa Dumia e Consorzio Sviluppo e Innovazione, vedrà impegnati giovani migranti, ospiti delle strutture di accoglienza della città e i feltrini che vogliono conoscere realtà culturali diverse dalle loro. Questo progetto si inserisce all'interno delle attività che il Comune di Feltre intende proporre per l'integrazione, l'integrazione delle persone migranti ma anche un processo di integrazione delle persone che vivono nel territorio di Feltre. Un progetto d'arte, un progetto di creatività, un progetto teatrale, unire quelle che sono le propensioni dei giovani migranti di prima e seconda, generazione o quelle che sono all'interno delle cooperative, con le persone del territorio di Feltre. Gli incontri si terranno tra aprile e luglio. Lo spettacolo finale sarà il frutto del percorso intrapreso. Tecnicamente allora il progetto si svolgerà attraverso incontri, inizialmente settimanali probabilmente, poi via via che andranno ad intensificarsi da aprile fino a luglio. A luglio verrà fatta questa rappresentazione finale e verrà aperta una call che sarà aperta appunto a maggiorenni interessati al progetto, persone del territorio, giovani di seconda generazione, stranieri eccetera. Per candidarsi al progetto è possibile mandare una lettera di presentazione specificando età, provenienza, esperienze artistiche, motivazioni di interesse al progetto e una foto alla mail formazione-slowmachine.org entro il 15 marzo. Gli esiti saranno comunicati entro il 22 marzo.